Io ho scelto l'Università Cattolica perché provenivo da un percorso di studi caratterizzato fortemente da materie umanistiche, infatti ho frequentato il liceo socio-psicopedagogico. Quest'università mi ha dato la possibilità di elaborare un lavoro su me stessa, perché la professione dell'educatore, che molto spesso è sottovalutata e descritta con sterili frasi di retorica, è una professione complessa e questo corso triennale ti permette appunto di elaborare un lavoro su te stesso e ti permette di accrescere le tue capacità interiori. L'Università Cattolica della Sede di Piacenza inoltre è fortemente radicata nel territorio ed è in costante contatto con le agenzie che offrono lavoro poi agli educatori. Io consiglierei l'Università Cattolica della Sede di Piacenza perché permette appunto di accrescere le proprie capacità interiori e a livello proprio concreto permette poi di avere sbocchi lavorativi immediati, troverete professori competenti e attenti alla vostra persona.